Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Il giornalista ha fatto luce sullo scandalo, Alessandro Cecchi Paone non ha paura di raccontarlo, è stata colpa delle indiscrezioni In queste ultime settimane il famoso giornalista tv Alessandro Cecchi Paone era stato messo sotto mirino dal gossip per via di quel che sembrava essere un vero e proprio scandalo Gli scatti delle paparazzate lo avevano visto intento a scambiarsi e fusioni con un ventenne e dalle immagini si era subito creato l'allarme scandalo Il silenzio del giornalista aveva acuito il problema e anche il fatto che il ragazzo fosse in incognita Vedendo la situazione degenerare, Cecchi Paone ha deciso di mettere in luce la verità sul flirt Si tratta di una relazione estiva, nessun particolare scandalo, si piacciono e c'è molto feeling tra loro nonostante l'enorme differenza d'età Il ragazzo in questione ha 26 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo, è un agricoltore che lavora nell'azienda di famiglia che Alessandro ha cercato di tutelare dal gossip il più possibile Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato sulla storia.Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao ci vediamo nei prossimi video Ciao ci vediamo nei prossimi video Ciao ci vediamo nel video Ciao ci vediamo nel video